ci eravamo lasciati così ed invece è successo di nuovo però questa volta il caso è stato risolto ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video il protagonista del video è windows 11 che ha regalato una nuova pesante sconfitta al pentium 4 ecco cosa è successo il pentium 4 670 l'abbiamo conosciuto nel precedente video per chi non avesse visto il video lascia il link nella descrizione l'ho montato su una scheda madre asus p5k che è arrivata in questa settimana e una volta montata la piattaforma ho lasciato i vari pezzi uguali la scheda video l'hard disk il lettore insomma tutto uguale tranne la scheda madre è risultato del test quale è stato guardare qua dopo aver avviato il computer ecco che appare il logo di windows 11 e dopo qualche secondo ecco che il computer si riavvia ed ecco che anche in questo caso parte ciclo infinito di riavvi tutto ciò quindi non era causato dalla p5 q e a questo punto gli unici due sospettati rimasti alimentatore e pentium 4 quindi ho cambiato alimentatore con un altro ma guardate qua il risultato è stato sempre lo stesso e a questo punto brividi perché ho iniziato a pensare che mio pentium 4 fosse fallato diciamo che la rottura di un processore è una cosa direi anche abbastanza rara capitare in un overclock spinto ecco lì potrebbe essere che si rompe il processore però a questo punto non volevo escludere questa ipotesi e ho fatto differenti test tra cui questo che vedete il risultato è che il pentium 4 è in ottima salute funziona correttamente quindi a questo punto non capendo cosa stesse accadendo iniziato a fare qualche ricerca ed è sbucato fuori che qualcuno è riuscito a far girare windows 11 su un pentium 4 quindi il mistero si era infittito ancora di più perché non riusciva a capire perché a lui sia meno sembra un qualcosa come su questo pentium 4 windows 11 non deve girare e quindi poi sono andato sul profilo twitter di carlos la persona che ha fatto il test con il pentium 4 ecco sono notato c'è questo tweet che parla proprio del pentium 4 670 e viene fuori che non funziona con windows 11 e quindi anche con windows 8.1 e windows 10 abbiamo uno scambio di tweet dove gli confermo i problemi che ha segnalato a sua volta conferma e suggerisce anche di cambiare questo pentium 4 con uno sedar 1000 i pentium 4 sedar 1000 sono stati gli ultimi pentium 4 rilasciati da intel all'inizio del 2006 conclusione il mistero è stato risolto da una parte devo dire che questo mi rincuora perché temevo per il pentium 4 in quanto il pentium 4 670 al giorno d'oggi è molto difficile da trovare e se lo si trova i prezzi sono abbastanza alti e anche per la pcbq che pensavo essere incompatibile addirittura con windows 10 e dall'altra parte quindi una nuova speranza di poter far girare windows 11 su un pentium 4 il nuovo 21 4 già l'ho comprato però non mi dico il modello lascia a voi indominare quale ho scelto vi ricordo solo che è un pentium 4 sedar 1000 e raccontate ditemi anche cosa ve ne pare di questa storia di questa avventura che è sembrato essere un qualcosa un caso per un detective come sherlock holmes io vi saluto ciao